Le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla flora e sulla vegetazione possono essere simili a quelle sugli animali. Qui abbiamo delle specie adattate a certi regimi, soprattutto idrici, e adesso si trovano a far fronte con una mancanza, non solo di quest'anno, ma è un trend che si porta avanti da più e più tempo. Purtroppo le piante non si possono spostare, quindi sono in sofferenza e rischiano di andare in uno stress elevato e estremo fino alla morte. Un'altra conseguenza è lo spostamento delle fasce altitudinali verso l'alto. Le piante disseminano, i semi si spostano sempre più in alto a cercare in qualche modo le condizioni a loro ideali. Le fasce più alte, le fasce della vegetazione sommitale, si restringono e quindi si va a perdere biodiversità e questo è un grosso danno. Dato che la vegetazione è ormai in stato di deperimento, ci sono facilitate le invasioni di specie all'octone, specie aliene, quelle che arrivano da altri continenti. Importate, sfuggite a coltivazioni possono creare numerosi problemi perché vanno a soppiantare appunto la nostra vegetazione. Un esempio di questo è l'ailanto, una specie arborea che riempie tutti gli spazi, è fortissimo, è vigorosissimo e non patisce la siccità come molte altre specie, quindi si rischia di avere distese di ailanto quando invece prima c'era un bosco ricco di biodiversità. I cambiamenti climatici aumentano la siccità in una valle già arida di suo. Gli ultimi incendi sono stati molto estesi, molto importanti. La vegetazione è stata completamente distrutta, ci ricordiamo tutti l'incendio del Rocciamelone di Montpantero. In questi spazi purtroppo la nostra vegetazione non riesce più a ricolonizzare i territori ma rischia di entrare questa vegetazione all'octona che occupa tutti gli spazi monopolizzando la biodiversità. Le conseguenze del cambiamento climatico sulla biodiversità animale in Valle di Sù stanno già iniziando a vedere soprattutto sulla distribuzione delle specie. I lepidottiri, le farfalle e i coleotteri stanno iniziando la loro risalita lungo i versanti per cercare le loro condizioni climatiche ideali per sopravvivere a quote superiori. Le montagne hanno questa forma rastremata e conica e questo fa sì che man mano che si sale la superficie disponibile è sempre minore fino proprio ad esaurirsi. Una seconda conseguenza invece di tipo fisiologico proprio su specie adatte al freddo. In Valle di Sù abbiamo diversi animali come ad esempio la pernice bianca piuttosto che la lepre variabile che vivono ad alta quota e sono proprio legate a temperature basse e a innevamento anche piuttosto cospicuo che stanno pian piano diminuendo proprio a causa dello scarso innevamento e delle temperature che diventano invivibili per questi animali. Una terza conseguenza che purtroppo si vede molto bene quest'anno, questa primavera siccitosa, è quella della sparizione di diversi siti riproduttivi, ad esempio delle anfibi, la classe animale che è in assoluto più minacciata di estinzione a livello nazionale e quindi questo purtroppo è una delle conseguenze più palpabili proprio a breve termine.